Il mio sincero saluto. Prima della traduzione del video di cui trovate il link nella descrizione, è doveroso ricordarvi di usare il nutrito indice alfabetico dove, sulle oltre 2700 voci, trovate i video di cui si parla in questa denuncia. Molto altro materiale è a disposizione nella playlist NASA Astronauti ma Attori con oltre 300 video testimonianze. È vostro dovere documentarvi e smettere di credere a quello che vi inietta nella mente il sistema menzognero innatto in tutte le attività da decine e decine di anni. Buongiorno commissari. Ditemi il vostro nome per favore. Mi chiamo Justin Harvey, vivo al 103 Sud Oseaola, Orlando, 32801. Buongiorno commissario. Oggi porto alla vostra attenzione una potenziale fraude su vasta scala che si sta verificando nella vostra contea. Ci sono prove evidenti che la NASA utilizza numerosi metodi per forviare grossolanamente il pubblico sul fatto che gli astronauti siano nella Stazione Spaziale Internazionale. Durante le scene all'interno delle SS dal vivo della NASA usano cablaggi, fili, schermi verdi e realtà virtuale che sono stati rilevati per ottenere l'aspetto di un ambiente senza peso. Esempi di questo includono gli astronauti che entrano ed escono dallo schermo con difetti dello schermo verde, afferrano oggetti che in realtà non sono là, tirano fili invisibili aggrovigliandosi nelle loro imbraccature e persino astronauti che appaiono dal nulla. Questo fa sorgere l'ovvia domanda. Se sono veramente lassù, perché utilizzano le tecniche di Hollywood per falsificare i filmati? Sfortunatamente non posso mostrarvi queste clip adesso, ma lo farò e ve li invierò. Andiamo avanti. Muovendosi all'esterno o all'esterno della Stazione Spaziale Internazionale, durante le passeggiate spaziali, bollicine sono state registrate in numerose occasioni. Com'è possibile che siano presenti bollicine d'aria nel vuoto dello spazio? Una volta interrogato l'astronauta Scott Kelly su questo fenomeno, il suo linguaggio del corpo e le sue risposte hanno semplicemente creato ulteriori domande. Nel 2013 l'astronauta Luca Permitano è quasi annegato durante una passeggiata spaziale quando il suo casco si è riempito d'acqua. Questo è successo di nuovo proprio l'anno scorso. Bollicine d'aria, caschi che si riempiono d'acqua e annegamenti. Sono nello spazio o sono sott'acqua? Ciò che è veramente interessante, si allenano per le passeggiate nello spazio in una piscina sott'acqua con la replica completa degli ISS. Sicuramente non stanno filmando queste passeggiate spaziali in una piscina sott'acqua per poi modificarli in modo che sembrano siano nello spazio, perché sarebbe sicuramente qualcosa, non è vero? Dispongo i commissari della Conte di Brevar per aprire un'indagine completa sulle pratiche fraudulente della NASA e sull'uso dei dollari dei contribuenti. Costa la NASA 3 miliardi di dollari all'anno per far funzionare gli ISS e se non hanno un'esplicazione dannatamente buona sul motivo per cui stanno falsificando questi video, io e il pubblico vorremmo una spiegazione maledettamente buona su dove finiscono i soldi delle tasse. E se stanno veramente fingendo il tutto, è nostro dovere smascherare ed eliminare questo programma fraudulento della ISS e astronomicamente dispendioso. E guardate, so cosa state pensando tutti. La NASA fa parte del governo federale e voi siete solo commissari di Contea. Anche se quello che sto dicendo è vero, cosa potete fare? Vi ricordo che non sta accadendo solo nella vostra Contea di York, in quanto come funzionari pubblici avete la piattaforma e la capacità di fare una dichiarazione, ottenere una conferenza stampa, allertandolo Stato pubblico e le autorità federali per indagare ulteriormente. Avete il potere di avviare la conversazione. Video con le prove di tutto ciò che ho descritto oggi verranno inviati via email a tutti voi e spero davvero che possiamo andare a fondo di questo. Attendo con ansia il giorno in cui il budget di 3 miliardi di dollari saranno messi ai nostri veterani, ai nostri senza tetto, forse ad alcune di quelle con problemi mentali di cui ha appena parlato la signorina e la rivitalizzazione della Contea di Breva. Grazie per il vostro tempo oggi e sarò felice di rispondere a qualsiasi domanda farete. Grazie signore.